25 aprile in piazza per una resistenza quotidiana, per la liberazione, per i nostri diritti, i diritti dei nostri fratelli migranti, i diritti delle nostre sorelle e dei nostri fratelli e di tutte le comunità che si sentono attaccate in questi anni puri di crimini contro l'uomo e contro le sue libertà. 25 aprile in piazza per commemorare il 25 aprile di 74 anni fa, grazie a tutti e tutti quelli che sono in piazza. Grazie a tutti i fascisti! Grazie a tutti i fascisti! Grazie a tutti i fascisti!